Salve, io sono Nasky, sono veramente sexy vero, guardami dritto negli occhi e dirmi che non sono sexy, con l'occhio stotto, soprattutto, guarda, ora cerco di fare l'occhiolino, non ci riesco. Salve a tutti ragazzi, io sono Asks, che ti hanno scritto? Ma che cazzo? Purtroppo mi hanno trasformato in un Asks, non vi scherzo, è passato Mago Merlino. C'è la tua ragazza Volpe, bellissima. Non sono una Volpe, sono un Asks, non bestemmiare. Ora, ballo con... 14 spettatori attuali, scusi signori. Ora ballo con... Ecco la testa, tunz, 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 tunz. Ma cosa sto vedendo? Mi piace il mio collare, l'ho comprato da Gucci, guardate. Bellissimo. Per caso che non si possono muovere le orecchie? Brandon, perché ha messo in timeout T.L.F.O.K.? Vai, guarda. Bro, ma che fai? Allora, se poi facciamo live insieme. Ciao Black Hole! Guarda, c'è Lasky che sta montando i baci. Sì, bro, però... Come ho detto, gli altri giorni farò uno, retten solamente di live. Quindi se poi sì... Non posso sentire che dici? Lo dici tu, amore? No. No, dai! Cosa? Che se vuole sì, ma un'oretta sola perché poi... Sì, un'ora sola perché poi devo andarmi a toilettare. Ah? Devo a toilettare. Che vuol dire? A tagliermi il pelo. Non vuol dire il pelo. Sì. Toilettatura. Vabbè. Abbaio. Uff! Uff! Basta con sto coso. Dio, sono troppo sexy con questi occhi così bianchi. Guardate. Uff! No, ragazzi. Ragazzi, giochiamo forte. Vabbè, non è morto. Devi dire, no, ragazzi, giochiamo forte. Tieni, va a cattare. Vabbè. Sì, 18 aspettatori. L'ho aspettato un attimo. Oh, oh, oh. Non cadere. Ok, ragazzi, un attimino. Ok. Ci siamo sistemati. Scusate un attimo. Calibro. Ok. Bella, ragazzi. Siamo qua. Con una nuovissima live. Già 19 aspettatori. Grazie per avermi messo in time out. Chiunque sia stato. È stato Brandon. Non l'ha fatto apposta. Conci, sei bellissima come cane. Mi ha dato della cagna, mua. No, dai. 19 aspettatori, mua. 19 aspettatori. Allora, dobbiamo andare a giocare. È perché sei un aski. Zubbissima a Fortnite. È perché sei un aski. Scusatemi. Sempre Venom. Venom. Per gli occhi, forse. No, come Venom. Cioè, bro, scusami, ma così mi stai offendendo, eh. Cioè, io ti sto guardando dritto. Cioè, figa. Allora. Non ti ho dato della cagna. È un onore per me essere un aski, quindi. Sì. Allora, io, volendo, potrei anche. Guarda, guarda, la faccia ti è incazzata. Facciamo così, va. Pinguino, ti prego. Pinguino, sì. Bella. Ok, adesso sono cambiato. Con la voce da pinguino, con la voce da pinguino. Ciao. No. Non ci riesco. Dai, ciao. Dai, facci sognare su Fortnite. Vai, vai. Ora andiamo a giocare su Fortnite. Però no, il pinguino è troppo carino. E te lo... Mettici quello là. Uno cazzuto. Voglio uno cazzuto. L'orso, che carino l'orso. Facciamo lui? Ti prego, il tacchino. Vabbè, facciamo lui, va. Ok, un po' incazzato, ma vabbè. È un pochettino storto, però ci siamo, ragazzi. Va bene? Va bene lui? Ah, sembri Venom per il doppiaggio della voce. Grande. Gioca forte, ha detto, con il pinguino. Ok, ok. Allora, metto il pinguino. Ci facciamo la bella live. Ma sicuro che volete il pinguino? Sì, ma tu nel titolo hai scritto comunque che sei un'aschia. Non avrebbe senso che poi senti. Effettivamente. No, però vogliono il pinguino, scusatemi. Il pinguino del ciasco. Allora, volete così o così, negro? No, va bene, no. Il pinguino del ciasco. Allora, la mia play si è rotta e non ho fatto nemmeno una battita nella nuova season. Che palle? No, no, tieni questo. Pinguino. Il pinguino? Oddio, l'esco. Il ciasco. Il pingu. Sì, però sta cosa che dice sempre ogni due secondi... No, thanks. Non si può levare, vero? Ok. Che fai la voce da pinguino per un secondo, ti prego? Non ce la faccio. Così devi parlare. Non ci riesco. Dai! Non ci riesco. Va bene. Ah, le attive il bot. Ah, il bot, ragazzi. Scusate un attimo. Le attive il bot. Bella. Scusate. Siamo in 2.0. C'è una cosa storta. Io ragazzi non ce l'ho gli occhi storti. Ma appunto, hai ragione Groth, non è Natale. Non c'è senza cappello. No, va bene, allora... Eh no, senza cappello non c'è. Va bene. La zombie, la zombie, ti prego, falli spaventare. Falli spaventare, un moment. Aspetta. Questo qua. Ciao ragazzi, è tutto a posto? Ma perché si vede così? Così come? Metà. No. Guarda, si vede tutto. No, questo fa spaventare troppo. Questo fa spaventare troppo. Va bene, ragazzi, va. Basta, è deciso. La farò con lui la live. Basta. La farò con... No, perché è negro? È perché lo spondo è nero, è normale. Ah. Ma io non ho capito. Ma perché guarda a destra? Perché è strabico. Vala, l'uomo è strabile. Sì, se mi sto pisciando, guarda. Aspetta, vediamo. Scusa, se metto questo... Sembra quello di Turbo. Esatto. Va bene, andiamo a giocare a Fortnite. A posto. Si vuole troppo la voce modificata. No, 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 26 spettatori, 27 spettatori. Vabbè, ragazzi, è una novità per questo. Comunque, no, vabbè, lui è troppo brutto. No, la lomaca non la voglia. L'ho secchiotto. No, no, leale, leale, leale. Mettila, metti la nizia e biega. Dai, sbagamo. Dai, metti la nizia e biega. Dai, aspetta, non lo trovo. E fai gli occhi strabici. Si, ragazzi, però non urlate. Non sto urlando. Ora fai gli occhi strabici. È questa qua? Si. Fai gli occhi strabici. No, non è questa. Non è questa. Quella, quella. Quella. Un messaggio strano in che senso? No, è lei botta. Ah, ok, non mi fate spavere un po' Questa qua, questa qua. Questa qua? Questa? Si. No. Si. Ma non è questa? Si, è lei. Ma non mi piace. Ah, vabbè, basta. Abbiamo detto che c'è l'aschi. Basta. C'è Octolette. È bellissimo. Non mi ti ho fatto spaventare. No, vabbè, mettiamo lui che è carino e coccoroso. Fai su Fortnite perché gli spetta si stanno abbassando. No, vabbè, non vi preoccupate. Basta, basta. Andiamo su Fortnite. È subitissimo. Perché la tua faccia è normale come fa sempre. Perché devi rovinare tutto, Giuseppe? Giuseppe Sorrendino. Ah, no, oggi giochiamo così, ragazzi. Non ti fai, dico, stiamo facendo una cosa diversa. No, è una cosa carina. Oggi giochiamo così, ragazzuoli. Se non ti piace esci. No. Scusa, devi dire... Tranquillo. Tranquilli. Vabbè, perché è la novità del momento, ragazzi. Non so, io quella, ragazzi. No, che schifo ho l'aschi, scusate. Tu fai schifo. No, ha detto che schifo voleva l'aschi. Ah, metti l'aschi. Vabbè, mettiamo l'aschi e basta più, non se ne parla più. Dov'è? Qua, basta. Aschi, non è questo, è quello che voglio che bianchi. Ok. Ce l'abbiamo, ragazzi, va bene. Allora, che è successo qua? Brew of Aschi. Kebab senza cipolla. Kebab? Ale, perché non sono mod? No, sei mod? Che stai dicendo? Che stai dicendo? Mi hai imbattito. Prendo, sì, sei un mod. Comunque, scusa Parkway. Va bene. Alec, ma vedi che non si vede? Lo so, un attimino. Perché ora devo fare la cattura, il catturaggio. Questa? C'è anche il appuncetto rosso? Sì, te l'ho detto. C'è anche il turco con l'ama. Ma c'è il taglietto? Sì. È il Fortnite tipo Halloween? Sì. Oddio. C'è anche lui che è cazzuto. Perché è l'Halloween? Ottobre. Adesso fa un disperno. Gigi, Gigi. Ma no, non la lasciare la live aperta con le 4G. Perché se no mi si sminchia tutto. E mai io voglio controllare che si vede bene la ASCII. Vabbè, me lo dicono loro, ragazzi. Però devo vedere se c'è questa cosa. Che un programma mi può fare da green screen. Capisci? Cioè, se c'è un programma che io metto la mia webcam e si vede tutto il mio screen. È fighissimo. Se giochi così inizia a sclerare il cane. Tipo... Allora, vediamo, ragazzi, come viene. No, mi dovete dire perché ho visto che a volte si blocca. Me lo dovete dire, ragazzi, quando si blocca. Niente di particolare. Dai, alla fine è una cosa carina, ragazzi. Una cosa nuova. Ci sta. Ok, allora. Un attimino che iniziamo a far vedere. È bella, è bella. Bella, ragazzi. Ma intanto il like l'avete lasciato e vi siete iscritti al canale? Bro, ma io vedo nero. Sì, lo so, ora vi metto Fortnite, non vi preoccupate. Non vi preoccupate. Allora, quindi noi abbiamo... Giosuele. Allora, cattura... Scrivete l'intervento in game. Dove scrivete? Sì. Ah, mi sembra l'anghiostro. Fortnite. Ok. No, perché... Aspetta, aspetta. Ok. Che figata. Beh, ragazzi, quindi... È troppo bello che dietro non c'è niente. È fighissimo. Troppo figo. Ok, ci siamo, ragazzoni. Quindi. Però se si vede schiacciato, come mai? No, mi sei bloccato l'aski. È perché tu ti sei mosso, invece. Aspetta. Non sei chiuso... No, no, aspetta un attimo. Aspetta un attimo. No, così si muove. Non si sta muovendo. È perché ti hai rispostato tu. Vediamo se si muove. Si, si muove. Amo, senti, senti. No, vedi? Quando sono in game non si muove. Sette. No, non c'entra niente. Perché in game non si muove. E come è? Non lo so. Non ho aspettato un attimo. Ho aspettato un attimo, ragazzuole. Ho aspettato un attimo. Facciamo... Scherm... Schermentare in finestra. Vediamo. Magari così. Vediamo se si muove. Si, si muove. Ok. Quindi. Se noi... Un attimino, eh. Ragazzi, sto facendo un attimino delle sistemazioni e ci siamo. Oh, merda. Un attimino delle sistemazioni e ci siamo, eh. Ragazzi, non vi preoccupate. No, no. Ma ti stai combinando. Un attimino. Un attimino. Quindi ora che io... No, ho sbagliato. Quindi ora se faccio così, si vede? Si. Che si muove. Mi muovo? Mica, direttamente, ragazzi. Direttamente. Ok. Allora, lobby pubblico. Forza, ragazzi. Chi vuole giocare con noi? Let's go. Togli il aschi. Basta scriverlo così. Che fastidio. Perché devo togliere il aschi, ragazzi? Ma forse, perché lo scrivo? Non lo so. Ragazzi, la scrivo in quel modo. Ora si vede bene. Ok. Benissimo, benissimo. È tutto nero. Ok, abbiamo Gabriele Pinna e Zubana. Ok, allora, vediamo se è uscito oggi. Ok. Ma smettila con questo gioco, con questo, con la C. Ma chi è l'aschiato? Non è felice. Con questo... Però non ti piace. Con questo gioco, con la Q, con la C. Ingrediti. Ah, Antoni, entri. Bella. Ti saluto. Ma lei, posso farmi la partita? Oddio, ragazzi, per la prima volta stiamo provando il tuo smartphone tra PlayStation 4, PC e Xbox. Ok, questo non è un problema. Facciamo così. Ok, ragazzi. Allora, siete tutti carichi? Sì. E andiamo a vincere, ragazzi. Mi è scelto un bel like, un bel pollicione in su. Anche tu il lama, così siete tre il lama. Il lama? Vai. Vedemi tutti il lama. Dov'è il lama? Qua. Ragazzi, non ci chiedete. Che ha insultato? Che ha insultato? Che ha insultato? No, vabbè, ma... Ragazzi, vabbè, è fatto bene a metterlo... Io non mi chiedete. Gabriele, metti... Metti pronto. Sì, sì. No, no, vabbè, ha fatto bene, ragazzo, perché Giustelli mi sta difendendo. Però, ragazzi, più piano con le parole. Vabbè, tanto ora ti si sbanna da solo. Stai tranquillo. Eh, ragazzi, non vi... Non vi dicate. Io dice anche a lei, forse, che mette il lama. Eh, non ce l'ha il passo. Ma, intanto, i like li avete lasciati? GG, ragazzi. Guarda, guarda, Sonia, c'è il cagnolino adesso. Impressionante, comunque, PlayStation... Da oggi in poi... Fortnite... Puoi giocare con tutti? Ci sono i cagnolini che le puoi mettere qua. Ale, fai ogni kill un balletto, vai, ci provo. Ci provo, bro. Lo faccio per voi, ragazzi. F1, team, chi è? Non lo so, dimmi lo so. Dove andiamo? Vai. Guarda, che con il cagnolino, no? Guarda. Che cosa si vede meglio? Che calero! Ma quando salte lui fa crescere. Lo scherzo? Non lo so, non lo so. C'è qualcosa? Man, la faccia da voler. Ti ti ho scritto? Vado. Ma perché, ragazzi, i besterini? Io non riflesso, ma... Non fai su questo. ragazzi che deve fare la sfida del della settimana 1 c'è la ma qui davanti dove qui davanti Qui alla casa Quale caso Venirò ma venirò ma Girega 6 alle in forte E' uno tu vedi Ok Chi c'è? Vabbè Guarda Te lo devo Bro ve lo chiudo Si vuole venire a prendersi Ma arrivo io Chi c'è me Mi sparano Vabbè Oddio stava cadendo ma cazzo Ah ecco la ma Aiutatemi Grazie Grazie mille Buonasera a te Mi raccomando iscriviti anche al canale Ok Ok Grazie Dove le le 4 No 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 Ho capito ma Eh bro 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 Un'armi Curami curami Aspetta un attimo Così si vanno Arriva Buscia Basta abbagliare Grazie mille Sì Oltre le 3 Spazi Chi cazzo Chi cazzo Chi cazzo Dell'uomo ma non muo sto qua procura appena finisce questo partito se voi possiamo già iniziare a giocare va bene a black hole vuoi che vengo su discord così magari parliamo meglio grazie mille per l'iscrizione vediamo se non l'ha contato perchè a volte le ragazze di youtube si bug no vabbè è normale ok ragazzo è bello eh voglio fare le forze perchè non ho la gtx 1070 è buono ah ah che gioco ok ma lo so perchè no me la sono potente a scappare perché non volete la è boff non so addio come si può lavorare qui no no ma qua va no 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 il portale quelli ah ah quello portato no 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 io mi sono bravo bella ciao no che 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 è normale non vi preoccupare non vi preoccupare ma la webcam ma la webcam orm huss ascolto ascolto no no ma la mano è importante sei sobrio oggi devo dire io sobrissimo non vero un parco io poi non ho capito perché tutti stai dicendo questa cosa della webcam ragazzi ci vede bene non ho cambiato niente non sto capendo perché tutti stai dicendo questa cosa io ho fatto poi avete l'allucinazione che è venuto un aschio io non lo so veramente perché io non ho cambiato nulla lo giuro sì no no aschio è un po' un abito un po' con la bella passeremo un po' il miglior del mondo di amore l'area nero non voglio dire non è un po' non lo so veramente c'è un'intentrata non ho avuto il nostro mondo il conto non posso la bomba posto come ti muovi ieri perchè nonostante non amo e' un'acquina di abbo c'è dobbiamo ragazzi abbiamo visto tutti capito hanno fatto l'aggiornamento posso giocare tutti quanti insieme finalmente è una cosa che c'è da me davvero se ogni volta devo dire no quelle di xbox e play in tm fantastico per questo momento ma comunque io sono con l'idea che fortement rimarrà il gioco più bello del mondo perchè nessuno può metterlo se lo faranno non credo che non sarà bello questo se vado su codo non posso giocare per esempio fatto live su black of strada giudiamo insieme no perchè play è un po la ruttura a me la grazie no uno davanti a me la tutti ragazzuoli potete spiegare questa cosa della bravi ragazzi bravissimi non è possibile appena avrà la metà e settanta di ai si vedrà benissimo anche live perché ho messo coco di b3 il mio computer esplode non ce la fa guarda la stupida la il sono medie di pio più volete sulla spiocco il io non ho capito ma mi state prendendo un giro? io preferisco il web che normale ragazzi ma io non ho capito niente ma io non sto capendo ma io non sto capendo ma io che mi sto servendo perchè vogliono vedere Ale mi sta servendo a te no ragazzi non ho capito nulla ma ci sento Alessio? non è qualcuno ehm quando deve essere il cage vogliamo vedere te ma io ragazzi ci sono ma io non sto capendo ragazzi io se vedo la mia live io mi vedo perchè voi non mi vedete che io non questo non sto capendo tutti a dire aski aski mi chiede no ragazzi veramente è vero si vede un aski come si vede un aski raga ma non è vero ma che avete confuso la live con quella vabbè che è la live con gli animali no no diciamo al portale direi che la sista è un po' troppo lontana dove sta dove sta no vabbè c'è sta quello di sponde c'è una per cosa non sto capendo cosa ti ti vuole ti fa volare non lo so non lo so non lo so perchè abbiamo fatto questa cosa te lo dico molto più il cubo sta ancora sotto c'è gente ci si 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 è volato il loot si 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 è volato il loot raga vedi la mia ci sei prendendo in giro no non li stai prendendo in giro vado quanto lui scaracca oro vado tesoro un mio niente caracca d'oro no c'è la parola è a quasi tanta di qua roba 101 che ci sta fuggendo grazie ma io non ho già visto uguale non vedo niente grazie mille oh no rega non è sopra è dentro vedi appena io mi sposto su sinistra si fa proviamo a salire? cioè io non lo so ragazzi non riesco a capire questo problema dell'ask io non vedo niente vedono il mio webcam normale secondo me mi state trollando voi rega è sotto a di sotto io pure lo sento attenzione che c'è un gioco qua sta volando non ho sceso io non lo vedo te giuro io non lo so prima che ho fatto vedere i personaggi poi ho levato è regalo senza un fatto che non c'è non c'è non c'è non c'è ma in realtà non si sta scrivendo nessuno non c'è non c'è non c'è un'asca posto della ciò andiamo ora andiamo a giù si andiamoci via io stiamo verso la runa e io pure c'è pure una giambola gente gente c'è anche un tizio c'è anche un tizio ma a terra e a terra sia a terra non c'è perfetto vabbè a vedere ragazzo non ciò qui c'è stato un po' 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 l'ho lasciato una cipush c'è uno cipush eh regalero dai il percorso che ha avuto la roba c'è ancora un colpo di pompa e attenzione è stato detto ma il piappina 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 grau piappina grau ora non ha contato ora conto ciao bravo fallo cadere sento ti arrivo dietro 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 quale lupo? ma poi stanno inventando i lupi, i cani cioè si è suicidato vabbò Ale che fai? aspettate un attimo ah ok aspettate un attimo regà che fai? Ale un attimo un attimo ah ok ok oh cavolo a destra aspetta no questo è brutto è brutto così così non mi piace dai ci sta mettiamo così ok perfetto allora ma eh al posto della web c'è un aschi un aschi con la A oddio santissimo anche se mi ha fatto lo screen rinno 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 ah ok vabbè vabbè ragazzi allora si eh sono ignorante no vabbè stiamo scherzando stai tranquillo comunque ragazzi in chat volete fargli rifare un'altra partita o ci sono altre persone che vorrebbero giocare con me io vado c'è uno c'è uno c'è un posto ciò va bene ciao bro bella ok abbiamo un posto ragazzi che vorrebbe giocare insieme a me eh c'è the walk mettiamo pronto è normale uno di roma come me non è ignorante no vabbè a broma non c'è non è perché sei di roma automaticamente ignorante io personalmente non la vedo così come cosa te lo dico molto sinceramente io sono di roma non eschi chieda non è un bacino un attimo perchè sicuramente devo fare i carini e allora quindi non lo andiamo e allora dove andiamo ragazzuoli no vabbè fra che figata webcam ma io non sto capendo così ma ragazzi io ancora non sto capendo tutti a dire che sta webcam questo gioco deve essere gentile infatti ho messo la schiena e tutti perchè devi essere di niente non devi essere razzito ma no all'infinito una sola volta è ben ringraziato si sa proprio che sei un genio se ti fate lazio potete anche uscire quale lazio ti vedo un aschi come ha scritto aschi comunque ragazzi ma ancora posso assorare ragazzi non c'è nessun aschi nella mia live io non sto capendo c'è nonostante ma è in ora ho un altro successo mi sono roma all'a razza ma si vede appunte in assenuando tv io so quando la live si deve lasciare anto su un'emozione della scuola vabbè si ragazzo, sto giocando con me non si vede l'altro no, ma mi avete fregato le armi? chi è che mi frega le armi? arriva... non c'è un'arma? arriva buongiorno ma poi perchè... io non ho capito perchè mi sta uscendo a colla dal mouse facci vedere col tuo telefono vediamo come si vede io posso dare un po' un po' verde a qualcuno un genio, Gabriele però a chi serve un po' un po' verde? e allora... e allora Chris eh ragazzi ma... Fuffi, vai di là per favore ora se n'è andato quindi ora dovreste vedere veramente la mia webcam se n'è andato, ora ragazzi non può essere ora dovete vedere per forza la webcam l'ho mandato via, scusatemi cioè... dove è Alessio? vedo per me ahahahah ma non può essere gli ho detto Fuffi ma sei ancora qua? dove ne vai di là? Fuffi dai non fare così Fuffi no vai di là su dai si vede un husky ma vi portate la città oddio va bene va bene facciamo andare via eeeh il cane va a me avanti avanti dai va bene ok ora non si vede più un husky e che cavolo ora mi vedo io cioè si vede lui ora l' husky non c'è più ma ragazzi ora Fuffi l'ho mandato via ora non c'è più Fuffi ora possiamo giocare io lo so perchè c'è la ragazza che non vuole essere vista ma se mi la tiro in comunicazione ma cosa? ma cosa? se mi conoscono ma cosa? questo è nuovo ora ma chi? si ora un pinguino eh no regà allora un pinguino no perchè è impossibile posso capire posso capire io l' husky va bene che c'ho un cane ok ragazzi il pinguino salverà è pipippo è pipippo è pipippo lo tieni in frigorifero dai si dai ma si è un pinguino no regà ma poi c'è un pinguino 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 no è perchè è impossibile ma poi tutti qua ma come lo blocco non è che non è che non è che non è che rarmi vabbè è natale è natale è natale è natale ci sono scioccato rarmi ancora 2 mini albini un vino strabico Pico Ok Grazie No, ma c'è The Warfare che lo so Mi sta dando tutto, ma se hai anche colpi di cecchino ne sarei molto al grado Sceglia io Che vuole un po' un po' un po' un po' no, sai com'è Semvitemi su Youtube Tieni Sì, guarda la squadra, vieni No, ho fatto bene Venta Vabbè Perché guarda a destra, a sinistra Perché è un pochettino... Non so che cosa con la faccia verde Vedo che c'è grutto, mettilo Vabbè, dai Ora Ci mettiamo noi, normalmente Ah Così nessuno può rompere le balle Ok Andiamo Allora, ora sono io quindi Non potete dire niente Mi stai trasporando Mi stai sfondando le 4G No, vabbè Ragazzi, ora basta Mo, mo basta E lo so che sono brutto, raga Che ci posso fare? No, vabbè No, vabbè Si strappi Eh, minchia Eh, bro, eh Purtroppo è una situazione un pochettino complicata il fattore di essere strappi Cioè, a me li spiaccano Voi mi insultiate così, giusto? Quanto si brutta Eh, vedi, un'altra Ragazzi, poi non ne faccio più rai se mi dite di che sono brutto Cioè, boh, io non lo so, ragazzi, io ho capito Mia mamma Ciao, Alessio Valveri Ciao, Valveri Si, anche in green screen Addirittura Ma non ci diciamo No, Valveri è morto Me l'ha ammazzato un po' Allora Ma così, ma che stiamo Come fai a mettere quel personaggio? Ma quale personaggio, raga? Ma voi mi state trollando Ma c'è green screen Ma non so mai Ma tutti sti soldi dove li avete visti, raga? Ah, ma che è stato brutto? Cioè, boh, mi sto No, ma mi stanno trollando Posso giocare a miglia legione? Si, potete giocare tutti Ah, è la faccia trasparente Eh, la madonna Che, 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 che sono? Che brutto Ma che vuoi? Non so se mi ridi Ah, boh Facciamo così, va Eh Facciamo così Dai Ma ora, raga, se mi dite qualcosa, veramente Basta, eh Ok, mi sono spavato Ma tu sei raffreddolito Raffreddolito Raffreddolito? Eh? Senti, Aleria, riavviva la line Eh, c'è il cappello Oh, come? Guarda C'è il cappello trasferito Ah, sì che be... È ferdo Asper... Ah, ok Tutto risolto A posto Andiamo Dalla There Dai, èh Wow Ha il cappellino e il green screen Ti hanno.. Ma non ho il green screen Ti hanno scammato Ahahahah Ahahahah Ahah E il cappellino, il green screen bastardo cappellino Dai, mi ha tirato faccia Ora non piuco, ora non piuco Vedi, stavola ho levato il green screen perchè io effettivamente sono povero ma l'hanno prestato un secondo dai raga ma stiamo scherzando ragazzi c'è già un po' un addosso sotto la montagna c'è un addosso non c'è da più allora ragazzi facciamo un po' oh tu c'è il posto mi sa che vuoi niente giocando tu che vuol dire ho aspettato un attimo e la sistema un attimo a terra 1 regala safe buono lo sappiamo che era un troll ma vogliamo te vabbè dai finisce le partite a mettere una faccia da culo oh no ma era fantastico se non usare general dove essere premiato per il mio comunque a parte gli scherzi non è veramente il diritto questo è un po' di neve eh vabbè si 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 quando ti finiscono oh 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 non trollo comunque la cosa è meglio grazie benissimo so e e e e vabbè e ma comunque mi serviva un pompa raga basta adesso basta non bisogna scherzare più basta uscirò la mia webcam è finita questa 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 è la mia webcam basta ora appena mi dite green screen cose basta perchè mi sono rotto le balle questa è la mia faccia da culo a posto possiamo giocare basta fine basta ah metti la cam l'ho messa l'ho messa questo sono io basta ora eh con la caldi con la caldi hai la faccia trasparente è bella ma che è stata a dire sei molto pallido mi sento un pochettino male ragazzi è normale perchè hai delle vidi nel collo ti fa male il collo vabbè mi sono stufato oddio sembri tu veramente no è già fatto basta va a me è finito siete contenti metti la tua vera mamma siete contenti o po' questa è la mia vera ragazzi è più vero di così non so non so che dirmi vai al mare se ci potessi andare ci andrei al mare si hanno venuto un sacco di cose sempre i derocchi io sono derocchi vabbè ragazzi qualcuno vuole giocare aspettate un attimo no raga mi insultate sempre poi ti schifo però eh siete iscritti comunque aspettate io devo andare bro va bene bella bro ora sto facendo uscire tutti i primi tre che entrano giocano bella bro ciao ciao allora i primi tre che entrano giocano insieme a me regà però non basta che non mi insultate metti quella del vampiro ora trasformati in un vampiro minchia ehm io ci provo ci posso provare vai allora è il massimo che posso fare eh vale vale bella c'è male a pacca allora è il massimo che posso fare eh Book l'abbiamo meglio più bella di questo più bella di questo più bella di questo più bella di questo non so cosa fare regà cioè non questo sei tu quanto sei brutto più bella di questo più bella di questo ma no tibala già hai giocato bro ti devo fargli uscire tibala eh adesso c'è qualcosa di ritorno le immaginate marco ma quella che parla è la tua ragazza yes sì ragazzi un posto disponibile mi raccomando regalata in forza ma perchè ha detto una cosa eh raga 1 1 1 1 forse nando importante no 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 la tua ragazza ha detto no questo perchè stai bisogna andare a studiare dai genti entrate genti entrate 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 un posto libero forza un posto libero vabbè che sono io allora per ritardo messaggeri una sempre ritardo perché non sei capri oggi mettono la cia con la sua scuola basta ora basta mi sono sto fatto eh alleluia no 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 the warfare bro aspetta jay giocato the warfare oh my god ok puoi giocare bro tu non hai mai giocato perfetto aspetta un attimo che si minghiata la faccia non hai niente da fare qua quindi evapora eh acqua parlate ragazzo no 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 i genti le decri fai l'ermetti pronti posso io sono chag cari broad dovete essere per giocare come dovete essere scritti al canale comunque iscrivetevi molto un ballo No, bellissimo Dai, forse, scriviamoci al canale Purple, perché? Guarda, ci sta provando con purple Guardatemi Sono già iscritto, non può essere Sì, è scritto, bro Erano già 1716 iscritti Bellissimo Ho qualche macchina A me non piace la si non sei A me la si non sei non piace Perché sono così nabo? Perché sono così nabo che ho cambiato i tasti del gioco? Ale, saluta di brisa Mi saluto io stesso? Come mai mi sono cambiati i tasti? Ragazzi, per il DocCoin dovete leggere la descrizione Forse mi sono andato E mi sono buttata prima perché non mi piace Ho cambiati i tasti, non so come sono cambiati i tasti Non ti rimetto Ciao, ciao Che fatte che stronzo glielo dice il tuo fratello Giusto? Quindi prima l'educazione Giusto? Perché se vuoi giocare con me prima l'educazione Punto primo E punto secondo Impara a crescere perché sicuramente sarà un bambino Per dirmi stronzo Perché ora mi sono stupendo Io sono sempre quella persona che si sta zitto Ora appena mi insultano Diventa una bestia Quindi Ah, un'altra cosa Scusami un attimino perché ti devo segnalare Un attimino Ti segnalo così ti chiudo nel canale Perfetto Ok Sì, ora vuoi segnalare anche la polizia Vuoi segnalare anche la polizia Oh no, questa è un bella casino Oh, scaraccavoro Il cane sta abbaiando Che c'è, che c'è, cagnolino? Eh, raga, sono morto Che c'è, cagnolino? Raga, sono morto io Raga, aiutatemi No, ma perché già so, palesemente che sei una persona fake Perché una ragazza non scriverebbe mai così, lo so Ale, la scelta di la tua ragazza per me Poi la tua ragazza è stronda Allora, meglio la scelta di la tua ragazza Ah, no, no Da un po' un po' del nonno blu se mi interessa, eh Eh, a me, a me, io non ho armi, non ho armi, raga Non ho armi Non ho problemi Ale, hai un'arma Ehm, no, non ti posso dare niente Non ti posso dare uno stridone Dietro di me, cavolo, c'è qualcuno Scusa, ho fatto tre, tre hs di fila Non ti posso dare niente Due hs di fila Finisce veloci Eh, non posso far niente Eh, non posso far niente Gli sparo, non muore, se inizio Mi su fanno Raga, c'è uno che è il guanzo Mi aiutate percorrere Perchè, ma perchè Ragazzi, basta che scrivete punto esclamativo Richiesta E vi sfonderà il mio dd forte Mettete in modo tale che mi potete inviare alla richiesta di amicizia È semplice Oggi contest Merda No Eh, dobbiamo arrivare a 1725 iscritti Non contesto, non niente Un'arma Di chi, di chi rispetto di voi Liz Ma qua, ma ragazzi Ma non ce l'ho sapere, se lo faccio, ragazzine Non c'è un skunking No, raga, un attimo Cambio un attimo Impostazioni E me No, dai, non la sospendete Io mi stavo divertendo a trollare Ti era un altro? È normale Raga, qualche bambino Che non so Dice cosa facciamo oggi Aspettami Mi invento una tizia Con delle bombe Raga, raga, un attimo E raga, mi serve Bella, bella Perché che non l'ho fatto Mi serve un colpe Colpi pompa nel 0 Ragazzine Mi sono Ah, mo Mi sono Ammi dai colpi pompa Tu che è un po' di lutte Andai, 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 andai Andai, andai Andai, andai Mi ho messo tipo una tizia Eh, non lo so perché Io No, ragazzi No Ale Ale Eh, dimmi Ale Hai dei colpi pompa che ne ho uno Ora sette Vabbè, ho cambiato pompa Va bene Aspettate un attimo Buffy Fuffi Fuffi dove sei Fuffi 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 Perché sei andato di là Ma per me la cosa più bella che hanno aggiunto in questa season sono le colonie sonore Fuffi Mi faccio un botto floss Ah, ciao Fuffi Bella Fuffi 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 dell'idea di scrivere e non va indietro non va indietro vendito vendito si chiesa perfetto ora il bot di sordi che inizia di inviare al ls 98 scritti in quel modo però a quante ore diciamo perché anche poi la prossima live non domani ma domenica domani forse alessi ce lo pensiamo un video potrebbe uscire non lo so male c'è mio fratello che sta guardando la live in tutti i giochi in pregio gioco in fratello quasi un letto grande grande mer grande il fratello di l air si chiama simone ma basta ragazzi ma non mi date sempre del cani grazie che tu c'è io ti ho fatto un amico certo e poi pure parte del mio clan e mi dai del cane ma io veramente ma si mamma ora com'è che combinato come si si è così valvere e così per guardare non mi ha rifatto malissimo con i tasti nera che avete colpi cieco che non mi servono ma ora uno sul gioco io voglio sapere perché mi sta insultando ma farei che a essere un cane non lo so perché mi insultate tutti no comunque abbiamo perso gente ragano e adesso non posso fare niente tutti tutti le strutture sperate perché vi se non è giusto del canale dire sono un prodotto vabbè ovvio però scusa abbiamo iniziato con 1715 ora siamo mille sette capo l'idea sperare per 100 535 tolto con il cecchino a youtube ha levato già 105 col cecchino la torta vado 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 quelle cose prendiamo queste cose ne lasci una scuola e colpi cecco no per 2 minuti fantasma ma dopo il rimettere la tua faccia la pezzi in sono bezzo una faccia di atturo ma quanto ci dura Ale? 2 minuti e ma ci giura il piede? ora ora c'è la righezza accetto tutte le righezze non smettere non smettere quanti colpi bombai shhhh non ha parto nei flame a caso vai, no, perché l'hai nascosto ma l'hai nascosto io quando partono i flame salgono gli iscritti Ale, quanti colpi bombai eeeh 31 1,7 tieni bro grande grande bro si qua c'è un po' di luce se ti serve niente non mi interessa no, è prova io non sono una tettona presa dai vabbè ma vorrei che l'hai detto tu non gli ho detto tu non gliel'ho detto non gliel'ho detto è normale eh con l'angermata posenti si guarda quel c'è chi no, perché tanto ora tra poco no ti prego sono io camperiamola camperiamola ma perchè è fake neanche a me sta fregando da tutta no ma non è che non me ne frega nulla ma home si deve ragazzo ormai youtube pieno di flame dovete andare a flame vedete flemmar via insieme ma perché secondo te eccoli la mia ragazza non mi verrebbe tranciato anche se ci vedono un po' di ciocchinato ma la sua storia a me basta che non mi insultate mi dite che sono un cane perchè un bambino dovrebbe fare non c'è davanti a noi non spena spaccato un albero si si penso e non è che sono sicuro cosa ho messo un po' di buco alberino no alberino è diventato un cane vabbè niente ma quale app rega non c'è vabbè vabbè quanta gente l'informa via via che immagini se questo è poco credibile ma poi secondo te una una che non è fake diceva che facciamo subito al dunque c'è dai un altro gioco essendo fidanzato di husky stdv è diventato un husky ma non c'è ancora un husky 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 se non si faccio subito con ampere le facciamo qualche ma ancora insieme aschi 8 later facciamo no noi siamo qua ma perchè mi devo spaccare non ti spaccano non ti spaccano no ma io sono tornato oggi non vado a giocare oggi è domani appena domenica se vuoi giochiamo insieme facciamo un rigruppo del clan ma dai ma come ma lo sai che Ale sta bussando ah scusate uuuuh mia figlia scendo anch'io nooo per il doppio non ci stendo ci credo ci sono tutti one shot e raga io c'ho un'ambo morirò però c'ho un'ambo ma non può andare giustamente nelle live se fosse vera andrebbe a calcolare da una ragazza del genere grazie nel senso che comunque sei un canale piccolo no non fanno apposta proprio perchè sei in canale piccolo uuuuuh uuuuuh ma come però bro se ne parla sempre domenica no se no ora potete giocare se voi ora si si ora metto la live aperta mi dovete sapere solamente un attimo che giochiamo insieme ancora no bro però devo fare giocare altri un'oretta quanto un'altra mezz'oretta altre due partite me le concedi a modo ora devo io devo staccare ah va bene ah un'altra mezz'oretta e poi andiamo va bene ragazzi allora intanto sto lasciando il gruppo mi raccomando perchè ora devo fare giocare altre persone mi raccomando andate in live bella ragazzi a dopo allora con i like allora gli iscritti ne abbiamo persi mi è dispiaciuto questa cosa che ne abbiamo persi giusto anche perchè siamo partiti che ne avevamo di più vabbè ma sti cazzi 23 like gg dai anche un po' di spettatori ce le siamo fatti quindi ragazzi allora lobby pubblica vale sei un figo oggi ah finalmente qualcuno che lo capisce va che altre ore che mi insultano mi dicono che sono un cane veramente ragazzi lobby pubblica se volete potete partecipare da me ragazzi e allora abbiamo valveri nooo non me lo puoi dire non me lo puoi dire cosa non me lo puoi dire valveri no galaxy no bro come hai fatto valveri 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 non lo sento a valveri perchè posso giocare se ho giocato prima no però no no ho altre persone a far giocare glosino ciao valveri mi saluti ma lo scrivi valveri sei ancora in chat ciao e come glosino ciao glosino bella bro iscriviti al canale dai valveri mi senti ha un telefono galaxy magari no ma mi sto sentendo male cioè non l'ho mai vista non ha mai giocato nessuno da me con la skin galaxy bella vabbè mettiamo pronto magari forse ti sei sminchiato il microfono ti ricordi di me mi saluti certo mi ricordo di tutti ciao valveri mi senti ciao black dead valveri mi senti non vi sento no non ce l'avete voi attivata vabbè mettiti pronto perchè sicuramente si sarà buggato in gioco poi ci sentirai ma come hai fatto ad avere la skin galaxy ti sei comprato un veramente un 8 9 cioè se si perchè non mi stai donando qualche centinaia di euro ovviamente sto scherzando bro comunque gg non avevo mai visto guarda la mia stazio ora comunque questo è un fenomeno grande sgamata merda sgamata merda nooo aspetta aspetta non vorrei aspetta non vorrei che lui però dai da youtube ti ho aperto l'immagine che l'ha scaricato potrebbe anche essere valveri mi senti sì sì ti sento ti sento ma è sempre lei è sempre lui non lo so vabbè comunque come hai fatto ad avere la skin galaxy bro l'hai shoppato il note 9 no il note 9 ho fatto mi sono comprato c'era mi sono andata l'euro onyx e l'ho fatto ho attivato ho scaricato no ho scaricato fortnite sul note 9 e me la sono presa e non ti hanno bannato? no 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 non hanno bannato bannavano solo chi chi aveva chi c'è chi modificava i file di gioco diciamo che si prendeva la skin galaxy femmine lui ha fatto la stessa cosa ha fatto noi e non l'hanno bannato? no no non mi hanno bannato dove andiamo? ma ma tu me lo spieghi come faiare la web? calma sembri un cane ma ancora con sto cane regà ma perché mi è stato insultando ancora? si sono un po' tenero i pignolini ti sto chiedendo come fai allora non mi dovete dire niente che gioco con il controller su un pc ma ancora questa cosa si può fare? no adesso non si può fare più cioè hanno messo il blocco e adesso l'ho portato non ci credo io non l'ho fatta perché dopo avrò di dire che mi bannassero nooo stavo per scavare bella bella questa è usata schildino poi che possiamo rifare? grazie mi hanno urlato come? no no ho scritto suspect per craift bella scildino? non ci credo poi possiamo rifare questa partita eeeeev no se non moriamo subit.no rough battuto e io solo tieni che mi prende l'uscita aspetta che soldi io purtroppo solo in banca che ha messo la trappola ma io e simo siamo molti subito ma la volevo anch'io ragazzi ci sto rimanendo malissimo c'è qualcuno 34 io le ho devo fare in mano dai ti fanno rifanno la porta io penso che questo all'interno della porta che gioca ma è ma lo sai che praticamente se prendi il ghost e vai nel bunker poi attraversare il bunker incredibile dj bro no il bunker quello la non si può attraversare col ghost si no ci ho provato già io non so se potessi pure che si è bugato a te si è entrato però io ci ho provato solo con i replay no perchè ti devi segnalare per spam così li fanno chiudere il canale è giusto no ma non si deve fare dal computer lo devo fare da qua non si può fare dal telefonino è un attimo un attimo un attimo un cazzo che avevo detto a parpolo di non sbannarlo no lo può fare no aspetta si si forse si aspetta ma non penso perchè non sarà più qua com mosso durante del canale comunque almeno no fatto fatto sbloccato anche io vediamo che cosa dice ma non penso perché non sarà più nazionale ragazzi devo fare missione di fa una kill in qualunque posto vabbè no la fiammora non compro il post sai tranquilli no perchè voglio aspettare un altro po c'è non sapete quanto felice ho finito i compiti e ho fatto tutto libero l'acqua mi sa che l'aggo un po un pochettino assai esiste la switch che è badata purtroppo ah tu stai giocando a nintendo switch la switch alcune sono baggate alcune no il mio è il caso di essere la mia è il caso di una malattia che si chiama girare senza che non tocco niente ok ok comunque comunque come si chiama la nostra in questa che ho a calamity è bellissima comunque calamity è bellissima e abbagliato il cane abbagliato il cane abbagliato il cane ma perché abbagliato il cane ma perché abbagliato il cane e quindi quando abbaglia c'è un significa che c'è un amico si ecco io ho trovato la mia anche perchè se non fai così no io non ho scusa ragazza il cane ecco bravo o bravo non so che tu significa anche perchè se non fosse stato così comunque avrei portato il profilo alla polizia e comunque te avremmo su chiamato con il cane anche a me sta abbagliando il cane si perchè sicuramente si appunto noi non ci avevo detto niente alla fine lo sapevamo ma anche a me mi sta abbagliando il cane si quello ogni tanto abbaglia anche perchè no ma il mio il mio abbaglia perchè si è collegato al wifi niente di particolare è un'altra cosa è una cosa che è curiosità ma io ho una cosa che è curiosità ma io ho una cosa ma qui ho due le femmine romante ma sei l'annasca sicuramente delle femmine non sono così stupide io ho due le cose è un'altra cosa un'altra cosa un'altra cosa un'altra cosa io 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 da qui da me c'è anche il fucile d'assassato collato arrivo sono qua in questa casetta qui ok grazie bomba scusate mio fucile a pompa sbattiamogli le mani adano grande uscita con le tessano alle alle tieni capisco io lo soverso qua ricordi nata e cerchino e lontano al cani c'è ragione questo questi 3d si iscritti come si sono levati a caso e comunque adesso si in pericolo cosa lo sai perché il bug di youtube quello che avevate iscritti a un sacco di gente autobio dicono che tornerà il bug quello che fa scendere gli iscritti a caso non è che fa scendere gli iscritti però la del semplice il bug è che se io mi disiscrivo a poter dire uno ne toglie due io ho una settimana che faccio live e in una settimana mi ha levato più di 150 iscritti quindi io me li sono rifatti però se avessi tutti gli iscritti che mi ha levato youtube senza affermati io sarei a giustizio di me l'escritti molto probabilmente nooo però questa cosa mi sta dando fossili infatti anche per questo avevo l'intenzione mi è rubato in corsa però molte persone che già non sono tutti ci hanno detto che una di cui mi ha rubato mi ha rubato due bucine a pompa qui sono anche dei colpi io tieni una volta io nel grano ho trovato lo scato il mio compagno mi ha spiegato subito quindi l'altro lato anche lui mi prego sempre si può prendere troll è iniziato con il primo troll una volta mi ha detto quando spiegata e dimmelo io gli ho detto e lui mi ha piazzato il muro di cebro maniera così tanto vera che ho detto cosa facciamo così direzionale e ho detto ma guarda qua c'è una posta se la volete ma da dove ti è venuta questa idea del cane c'è molto originale sai era veramente come fa sia a casa molto originale ma sai quale sarebbe bello il giorno di alwin vai il giorno di alwin fare una live con uno scherzo una pozzata 50 chi la vuole alessio io 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 qualcuno ha un caccia che mi salva all'inizio quando è stato la live 30 aspetta perché guarda quanti siamo 12 dalla win 12 15 adesso è rimasto no simone è rimasto baggata che si vedono le foglie comunque ma essendo in 12 spettatori praticamente fare di giocare molta gente no perché tanto tra uno e due partiti devo andare ragazzi perché sono colleghi ragazze non facciamore di live poi ci sentiamo domenica domani forse che ce la pensiamo facciamo uscire un video ma non vi assurro niente se noi ci becchiamo direttamente domenica verso le 3 allora ti posso raccontare un aneddoto che mi è successo oggi praticamente devo fare la missione di cercare dentro la mano nella intera sotto di ombrello che c'è apposta tempi con pochi questo è stato cercando un lama appena sono sceso davanti a me c'è un lama io non crede ai miei occhi di quanto era raro io pensavo che lo su palco giochi faccio un altro ne posso prendere io qualcuno è fra missione solo potete prendere voglia io nella modalità 50 con 25 io non l'ho fatto e poi di cercare l'ama come ho fatto io che sta facendo anche la pirata ma io voglio voglio avere un mezzo come cappello voglio un mezzo come cappello si un mezzo come cappello prendilo il 90 tutto ne fate tutte e due queste missioni il canale al cane si chiama ma io so che c'è praticamente su questa ragazzi vengono addosso che praticamente poi vengerti uno un dog ragavano dove se non ti prende lì si muove la cittura per occhio non aspetta che non lo prende c'è la viste ci hanno visto no c'è un rubato ecco dove come a tazzi di prendo da dietro tantissimo preso uno ma dicevi un attimo il p90 esci questo tizio quest'altro tizio ma non sono montagna ragazza a sua montagna innovata ma non è buono quanto ricarica no speriamo che di una man di buona e riesco a fare questa vabbè andiamo sopra dai sì sì non ha senso che stavo perdendo solo la venta oh no chi è chi è dov'è 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 eh vabbò ok non è più il p90 no è io no lo sparo di in faccia lo sta curando lo sta curando vinico sta curando a questo può fino adatto di me salvoci ho fissi materiale finito tu incredibile ho fissi materiale finito tu non ho fatto danno va bene che ore sono dai io direi che la possiamo anche staccare qua la live ragazzi grazie mille per aver partecipato a questa mini live insieme a noi forse domani facciamo uscire un video oppure ci vediamo direttamente domenica alle 3 ragazzi quindi grazie mille lasciate like lasciate like iscrivetevi al canale mi raccomando anche quando non sono online condividete con tutti i vostri amici che è una cosa importantissima bella ragazzi grazie a tutti per il vostro supporto ciao bella a tutti ciao 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 ciao